Assessore, un bel momento, una bella iniziativa che lei apprezza particolarmente, che unisce sport e cultura che sono le sue deleghe. Sì, non è scontato, infatti ho ringraziato che andavo a lei per l'iniziativa. È bellissimo che le ragazze che sono qui per ragioni professionali e sportive scoprano la storia della città, cosa che dovremmo ricordarci tutti noi essere importante anche per i cittadini, magari cunesi da sempre, ma che poco sanno di quella che è la realtà storica della nostra cittadina. E poi, insomma, si stanno facendo valere ampiamente in campo, quindi un motivo in più per stare vicino a questa squadra, a queste ragazze. Sì, noi siamo vicini allo sport, sia di base che a Picale sempre. Devo dire che il carattere che sta dimostrando questa squadra, giovane, gagliarda e tenaci, ci rappresenta molto.